Ciao a tutti ragazzi, sono Lucchi e sono in compagnia di... Lucchino! E Nathan c'è anche oggi, che sta facendo già da anni. Eccola, già da anni. No, 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 non rompere, non fai lo rompere, non fai lo rompere. No, no, non rompere. Ragazzi, a parte questo inizio bura, bura, bucare, bura che? Buca, bu, 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 ecco, casinesto, casinesto, da chi è che sta impazzendo? Buracattini. Spiega, che stiamo facendo in questo video? Intanto tanti... Tanti like stiamo facendo... Perché? Spiega. Perché oggi facciamo il video dei mostri. Vai, fagli vedere di qua. Eccoli qua ragazzi, Monsters! La nuova collezione appena... Allora! Che facciamo oggi? Oggi facciamo tutte quelle macchinine. Dopo. Dopo. Facciamo 67 cose insieme. Ecco. Ragazzi, nuova collezione, appena uscite l'edicola, Monsters, sempre della Panini, che Dennis ha voluto. Voluto. Ecco là, questo? Eh? Eh? Nuovo. Però facciamo altri video se mettono tanti. Like! Se volete altri video dei Monsters, lasciate ragazzi tantissimi like e condividete il video. E io voglio lasciare questo qua in armato. Allora, una challenge. Ragazzi, dobbiamo trovare almeno uno di questi quattro. Io non so di che monster si tratta, non so i nomi, non so nulla. Uno di questi quattro o... Anche o qui. No, uno di questi quattro, la challenge, ok? Sono 16 bustine all'interno della scatola che io, Dennis, andremo ad aprire. Andremo ad aprire! Batti 5. Yeah! Stai con me un ventolo? Sì! Eh, poi facciamo anche le carte. Le carte, poi facciamo? Eh, carte adrenaline. Adrenaline, bravissime. Vai, allora, guarda io, no, tu. Ragazzi, questa è la bustina come si presenta, fantastica. Ecco qua. Sì. Boom, vedete? E dentro c'è un mostro. Io anche io ce l'ho, eh. Andiamo a vedere? Sì. Poi andiamo a mettere un po' più la mensola, se sono belli, eh. Non lo so, ragazzi. Ne emozioniamo con peggio dei bambini. Vai. Io l'ho aperto. Wow. Allora, c'è dentro un libricino. Ti faccio vedere. Ecco qua. Ah, forse c'è un po' la storia, la trinpegazione, non lo so. Super gigantesco. Bello! Ah, ma sono 16 mostri? Ma vuoi dirmi che i mostri sono 16? Ma credo sia un'occasione di Halloween a questo punto, non lo so. Guarda qua. Io ne ho tornato uno, ragazzi. Guarda qua, Crow. Vabbè, scopriremo, ragazzi. Ragazzi! Che cosa fate? No. Anche voi, ragazzi. Oh, che bello, guardate. Bianco, bello. Sì, da montare, da montare. Anche io, ok, vediamo un po'. Anche lì al bianco. No. Sì. È del genio. No? Io c'è la pala rosa, di tu la pala bianca. Ragazzi, non lo so, non lo so. Eccolo qua, un fantasmino. Lo andiamo a montare. Che dove si monti così? L'ho montato giusto? No, sì, l'hai montato giusto. Vediamo un po'. L'ho montato giusto? Sì, l'hai montato giusto. Sì, l'hai montato giusto. Sì, ragazzi, la pala va, clic, vedete? E si, si mette. Ma io, ma il quale ce l'ho? Tennis, che bello! Sì, tu ce l'hai, ma io non riesco a... Raga, ma è bellissimo! Sì, ma io... Ragazzi, è più bambino, lui è dei bambini. Fai dire, amore. La palla, la palla. Il tuo è bianco e se andiamo a vedere i nomi dopo, eh. E lo andiamo a cliccare dentro. Ah, è il tuo uno spettro, credo. Sì, vediamo qual è il grande. Questo uno scheletro? Lo voglio vedere anch'io! Sono uguali, sono uguali, guarda qua. Tutti i bianchi. Ehi, cambiano colore, fanno qualcosa. Ragazzi, lo scopriremo, sono emozionato perché sono nuovo anch'io, nel genere. Io, io sto prendendo un altro. Vuoi fare un altro? Vai, anch'io mi ha fatto un altro. Madonna. Oh, madonna, chi va alle prese con... E questo è tu? Eh sì, amore, è un'ora che sta già guardando, sta scusando. Dopo, con voi, con te e Nadia, facciamo un altro video per le femmine. Sì. Siamo per i maschietti, amore. Allora. Dai, siamo uno bello. Eh, si lamenta il bambino, eh. Dove facci vedere quel punto esatto? Dai, chi cacchiano questi? Eh? Sì. No! Cod'è? Uguale all'altro. Dai, ma questo è uguale, Dennis, però cambia il colore del busto. Guarda qua. Oh, è diverso, è un fantasma. No, è sì. Bellissimo questo qua. Guarda, amore. No, guarda qui. No, ragazzi, sono bellissimi. Questi sono tutti bianchi. Mettiamo da parte questi qua. Se, forse sei temallo, insieme. Vuole questi qua, mettimeli qua, dopo li lieto, ok? Può essere? Sì, sarà temallo. No, no, sono quello di fare i graffi. Perché se sono anche bianchi? No, uguale? No, è diverso. È un drago. È un drago, guardalo. Voglio vedere, amore. Eh no, montalo, amore, prima. Montalo che poi lo guardiamo montato. Ma così, papà? Sì, metti la pallacina e poi quell'altro. Ma guarda quest'altro qui. Oh! 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 Cosa hai trovato? Ma me lo faccio vedere! Ma me lo voglio vedere anche io! Ma me lo faccio vedere! Hai trovato questo, hai trovato. È bellissimo. L'hai trovato? La challenge? È questo qua che hai trovato? Sì! 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 Trovato uno dei quattro, ragazzi. E io ho trovato un drago. Hai trovato? Questo, questo di qua, giusto? Uno dei quattro. Allora, non ve lo faccio vedere. Indovinate, secondo voi, qual è quello dei quattro. Lo metto qua dentro. Oh, mamma! Ok. Allora, allora, lasciali. Dovete, challenge anche per voi, Danny. Dovete indovinare anche voi quale dei quattro io ho trovato. E poi, ve lo svelerò, dopo questo video, metterò una bella foto su Instagram. Yook. Guardate, 16, YG. Quindi, tutti su Instagram vi svelerò quale ho trovato. Io so, prendo un altro. Eh, però, qui ce ne voglia più meglio. Ma dove l'ho messo adesso? Qui. Bambini piccolini. Tra la lì, tra la lì. No, ma sono bellissimi, ragazzi. No! Di un altro colore. Hai trovato quello? Eh sì. No, è lui! No, no. È bellissimo! È lui! Ho trovato lui! Ho trovato lui! Ho trovato lui! Ha trovato lui! Sì, è lui! L'ho trovato? Guarda, è vero! Quello verde? Vendato verde. Sì, questo qua è uguale. Che bello, che verde! A me non c'erano tutti i bianchi. I bianchi, veramente. Ma abbiamo fatto la collezione dei biancarelli. Ma girameli un po' di qua. Girameli. Girameli! I biancarelli. Papà, girameli. Papà, ti lascio vedere tutti i biancarelli. Ma io li voglio vedere. Papà, ti lascio vedere tutti. Eccoli, eccolo! Bello questo, bello. Bello, eh? Ecco, bravo. Gira lì, che io li voglio vedere. Hai visto che è bello, amore? No, è verde. Oh, il mio preferito è il drago, eh? Eh, lo faccio io, eh? Guarda, papà. Io l'ho visto! È bellissimo! Mi credi che sia bellissimo? Io l'ho già visto! Da me bacino poi in questo punto, esatto? Sì, sì. E' un pochino più qua? È bellissimo? No. È verde? Io l'ho già visto! Andiamo a fidemma, papà! No, ragazzi! Ve lo monto? Non è di questo, non è questo. Ve lo monto? Non è questo. Basta la palla che cosa... La pancia, il sostegno per muoverlo. Ragazzi! No, dai. Dai! Sì, amma? Non ve l'ho caputo! Oh, madonna! Che bello! Dai! Ma che cosa... Che animale è quello? Super mega spacchettante! Ma che animale è quello? Non lo so, un serpente sembra. Un signore. Cosa ho trovato? Bello! Lo lieti cos'è? La palla non c'era? Eh? Non c'era la palla. E l'ha attaccata la palla? Ma ce l'hai già su? Ragazzi, è questo? Aspetta, aspetta! Che cos'è? Ammetto che è questo, Danny, se il lupo? Il lupo? No, è lo lieti. Allora non ce l'hai qua, non so. No, è il lupo! No, è lo lieti. No, ho trovato io il lupo! Tu hai trovato il lupo? Sì, è il lupo! Non è il lupo! Oh, madonna! Non è il lupo! Quello lì? Quello lì è trovato qua. Sì, è il lupo! È lui! Vediamo! E poi con i pantaloni, guardalo! Quelli secondo me sono 16, come io. Ma secondo me non è quell'altro, no? Sono 16 mostri, bello il lupo! Non è il lupo, sì! Spettacolare! Sono bellissimi, eh! Sono bellissimi! Ah, hai capito perché è mix? Perché è mix? Se tu gli stacchi la testa, ecco, di sopra, e li puoi cambiare. Li puoi mischiare. Ho trovato Frankenstein! È Frankenstein. Fa vedere. Fammi vedere. Madonna quanto è brutto. È lui? Sì, è lui! Eccolo! Bellissimo! Ma qua non c'è, sì! Aspetta, aspetta, aspetta! Ma ci sono tutti sulla scatola, amore, non so. Ecco, è questo, è questo! È questo qua, è questo qua! Quale? Ah, uno dei quattro ho trovato? Quale? No, non è quello della Challenger, eh! No! Bello! Bello! Bello è impossibile! Ora aiutalo a mettergli quella maglia! Con gli occhi neri, tutto dorato, da impazzire! Ma boh! Bello! Bello è impossibile! Che bello anche quello! Sì, sì! Bello! Io ce l'ho, eh! Che stanno impiando! In realtà, ragazzi, la spacchetta molto la fanno noi! Ecco! Sembrava che erano così belli! Ma lo facevo da solo! Eh, capul! Non mi aspettavo che uscivi la scuola! Allora, apriamocelo! Cosa ho trovato? Cosa è? Oh! Uno dei quattro! Ragazzi, mi sa che i mostri sono sedici! Una collezione unica, veloce! Uno dei quattro! L'ho trovato uno dei quattro! Io ho detto che trovate anche... Ma no, ha detto uno dei quattro, non l'ha detto quale! Eh, ormai l'ha fatto vedere! Tanto è uno quello della challenge per loro! Ne ha trovato un altro, ragazzi! Ha trovato il monocchio! Grande, Danny! Uno, no! Il monocchio! Il monocchio! No, bellissimo questo! Non è doppio! Guarda che bello! È la strega! Bello! È la strega, quella lì! Guarda! È questa qua! È bellissima! Amore, sulla scatola ci sono tutti! Ho detto che la collezione, credo se non sedici a questo punto! Il cenerino! Sì, il cenerino! Ma ti sembra una cosa normale? Cioè, hai messo i piedi al contrario! Fa vedere! Oddio! Sono l'ultimo? No! Finito! No, questo no! Questo è la challenge! Ah, tu lo spugno io? Sì! Ma perché lo facciamo tu io? Dai, vai, aperto! Apro l'ultimo! Mio! Bello! Bello! Impossibile! Bello! Sto prezzo? Non è che l'ho già aperto! No, Dennis! Eh! Ho trovato quello lì! Colo rosso! Non è vero! Guarda! Guarda che bello, Dennis! È figo, figo! Guarda qua! Il... Io ho trovato uno lì! Cos'è l'idra? Come si chiama con le altre teste? Oh, io ho trovato uno di quattro! Che bello! Ho trovato uno di quattro! È tutta la signora! Sì! Dammi, era un po' peraltro! La signora mi è trovato! Il lasso! No, quello non si apre! Il lasso! Perché no? Perché? Ha trovato la signora! La signora! Madonna quando è grossa! Bella signora! Dai, l'ultimo! Eh, non dì! L'ultimo! Io tanto mi leggo un attimo qua! Perché ci avranno i nuovi! È quello! È quello! Allora, adesso va! Non ci mancano! Perché lui non ce l'abbia! La signora si chiama Gorgos! Qual è la signora? Lei? Allora, facciamo una presentazione di tutti i personaggi! Ecco! Chi è? Sì! È lui! È l'ultimo che mancava! È lui! È lui! È il toro! Il toro è tutto! Ma certo che è lui! Non ci fa vedere! Il toro è tutto! Va beh! Allora, per questa volta, tanto ormai, su Instagram sarete già andati! Quindi, quello che avevamo trovato, ragazzi, basta fare il calcolo di quello che manca, lo scoprivate! Era lo Yeti, bianco! No, un fantasma ferotico! Un fantasma cosa c'ha? Lo Yeti! Lo Yeti! Lo Yeti! Lo Yeti! Lo Yeti! Lo Yeti! No! Aspetta! Lui! Ragazzi, vi faccio vedere! Ma di questo non trovavo! Non c'è il trucco, non c'è il danno! Io ho trovato la cattapanna! Ma il Yeti cale! Eccolo! Trovatelo! Ma il Yeti cale! Facciamo la presentazione? Allora, ragazzi, ci vediamo tra 30 secondi! Ragazzi, ci manca questo? Ci manca qualcuno, lo sai? No, ce l'ho quello! Bauscia! Aspetta se vogliamo tutto! Sì! Presentazione! Taglio! Let's go! Ah! Ragazzi, vi presentiamo Mythos! Eccolo qua! Il signor Mythos! Lo mettiamo qua! È lui? Sì! Ma certo che è lui! Vi presentiamo invece Gorgos! La signora, eccola qua, accompagnata dal signor Ciclop! È il suo fidanzato! È il suo fidanzato, Ciclop! Quindi le mettiamo vicini! Ciclop e Gorgos! Eccoli qua! Che ballano! Abbiamo Hydras! Con le tre teste! Infatti era una Hydra! Io l'ho detto che era Hydra! L'ho imparato, giocando a Minecraft! Vedi? Hydra! Poi abbiamo... E questo qua, dov'è? Scopri l'effetto metà l'Hydra! Perché poi c'è tutta la descrizione, ragazzi? C'è la storia e la descrizione! Eccolo! Poi abbiamo lo Yeti! Hai visto che erano Yeti? E allora l'hai trovato! Eccolo qua, lo Yeti! Eccolo qui! Che caro! Posso vedere anche sulla Mardam! Poi andiamo avanti! Questo è bello! Questo mi piace! E si chiama Best! 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 Vabbè! Questo qua c'è il bambino! Abbiamo Wolfus! Eccolo qua! Il lupo! Il lupo! Eccolo qui! No, ma è lui, Dennis! No, è lui, è lui! Il lupo! Il lupo, sì! Ok! Poi abbiamo Basilisk! Eccolo qua! Che è un serpente, giusto? Siete? No, è bravo! Poi ragazzi abbiamo Chimeria! Un leone! Ma ci manca! Ma è un leone con altre teste, però! Un leone con tre teste! Ci manca Chimeria! Dennis! Ma questo qua era un po' uguale perché è un altro teste! E' lui! No! E' lui! Ma dai, l'ha messo pure il controllo di piedi qua! E' lui ragazzi! Eccolo qua! Chimeria! Eccolo qui! Chimeria! E' vero, è vero! E' lui! E' lui! Sento la covaglia, amore! Andiamo avanti! E abbiamo, abbiamo, abbiamo... Questo qua! Scary! Questo qua! Questo qua! Questo qua! Murmiss! La mummia! Questo qua si chiama? Eccolo qui! Murmiss! Questa è la presentazione ragazzi! Poi abbiamo... E' questo qua! Franky! Hai visto che era Frankstein? Eh sì! Franky! Che belli! E' la strega? Poi abbiamo la strega, si chiama Morgana! 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 Morgana, la strega Morgana! Poi andiamo avanti! Facciamo l'appello, ok? No ci manca, ci manca, no c'è, 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 ti guardiamo aprile immagini in realtà la seconda, crow, eccolo qua, crow, poi abbiamo invece ghost che è il fantasma con gli occhi viola, questo qua, ghost, poi andiamo avanti, abbiamo scheletron, eccolo qua, scheletro, bellissimo, poi abbiamo gargoyle, poi abbiamo spettro, che è uno spettro, eccolo qua, poi abbiamo, eccolo qua, tutti e 16, collezione di 16, eccolo qua, collezione di 16, tutti li abbiamo, li abbiamo tutti amore, un bacino a qualcosa punto dato? Ciao a tutti! Ciao! Ciao!